...che è stato fatto e perché è stato fatto in questi sette giorni. Criticità in cinque scuole su 43, problemi a monumenti e a beni del patrimonio comunale come l'ex chiesa di San Francesco e alla Rocca Malatestiana, oltre a dieci ordinanze con cui è stata disposta l'inagibilità parziale di abitazioni private e questo è il bilancio dei danni registrati a causa del terremoto che ha colpito anche la città di Fano. Gli accertamenti, iniziati il 9 novembre dopo le prime due forti scosse, sono ancora in corso ma si stimano circa 30 milioni di euro di danni. In totale sono stati più di 140 gli edifici pubblici esaminati ma alcune problematiche sono state riportate anche da imprese e cittadini. Assessore, si tratta di interventi di somma urgenza? Sì, non a caso il 14 proprio in seguito a una tempestività ma anche a una continuità di interventi che si sono succeduti al sisma di mercoledì diciamo che il 14 abbiamo proprio redatto una somma urgenza che riprofilava tutti quelli che erano gli interventi sia su scuole, su beni pubblici, beni monumentali e anche cimiteri che avevamo individuato con priorità. Quindi ecco ci siamo concentrati su quello nel frattempo abbiamo anche dato un incarico a dei professionisti esterni quindi di una società che faranno una ricognizione quindi con tanto di perizia che accompagneremo alla somma urgenza proprio al Ministero per andare a chiedere degli eventuali risorse. Voglio ringraziare comunque tutti gli uffici tecnici dei lavori pubblici, dell'urbanistica, della sede comunale che si sono messi a disposizione nello stesso giorno proprio per ottemperare quello che era una ricognizione in uno stato di emergenza, stato che spesso ci coglie all'improvviso e che non è semplice superare. La scelta di chiudere le scuole per 48 ore, evidenziato il collega Mascarin, si è rivelata corretta. Infatti in poche ore sono stati eseguiti oltre 100 sopralluoghi dai quali sono emerse criticità in 5 scuole. Monitoraggi proseguiti anche nei giorni scorsi. Nel Luigi Rossi gli interventi stanno continuando anche in questi giorni e si dovrebbero concludere dentro questa settimana perché ci sono stati una serie di distaccamenti d'intonaco più diffusi che hanno richiesto e stanno richiedendo un intervento più articolato all'interno della struttura che è comunque in sicurezza. Sono stati realizzati però anche altri interventi sulla scorta anche dei sopralluoghi che l'ufficio tecnico del Comune di Fano ha continuato a fare nei giorni successivi alla luce anche dallo sciame sismico che come sappiamo è proseguito fino a domenica e quindi nuovi interventi tra lunedì e martedì sono stati realizzati presso la scuola media Nuti a Poderino la scuola media Padalino in centro storico e presso la scuola primaria Rodari sempre a Poderino e anche questi interventi sono stati realizzati e conclusi nell'arco di 48 ore. Da questa settimana partono gli interventi di verifica e monitoraggio a tappeto su tutte le strutture scolastiche per un secondo giro di verifica che riteniamo in questo momento comunque prudenzialmente opportuno per completare la scassione e avere un quadro ovviamente più di dettaglio su ogni singola struttura. Il Comune ha provveduto anche all'installazione della cartellonistica con le indicazioni delle aree di attesa in caso di emergenza. Sono 45 in totale le aree verdi e i parcheggi in cui i cittadini troveranno un posto sicuro e un punto di riferimento coordinato dalla protezione civile. Ieri inoltre i sindaci dei comuni colpiti dal sisma si sono confrontati in via telematica per definire azioni comuni di intervento. I comuni non riescono a far fronte agli interventi necessari con i propri fondi. Questo è normale e bisogna attivare fenomeni di solidarietà tra comuni. Quindi anche noi insieme a tutti gli altri comuni chiederemo uno stato di calamità naturale anche perché sono a rischio non solo gli interventi per rimettere a posto gli edifici ma anche a rischio l'attività dei comuni. Ci sono molte scadenze di fondi FSC e PNRR previste per il 31-12-2022. Noi prima l'alluvione, anche se nella nostra città non è stata importante, poi il terremoto rischiamo di perdere questi soldi. Quindi oltre al danno del terremoto, importante per tutti, anche la beffa di perdere i soldi che ci sono stati dati all'Europa per importanti opere pubbliche.